Se volessimo ridurre in una sola immagine la complicata storia della diffusione del cristianesimo nell'Africa sud del Sahara, potremmo dire che ci sono alcune figure che strappano, tolgono dalla mano dei missionari la Bibbia e se ne servono come testimoni di questa storia del contatto tra Europa e Africa sud del Sahara, che è una storia che inizia alla fine del Medioevo è dura tuttora, ma anche per interpretarla rispetto a tutti i dinamismi sociali, religiosi, economici che compongono questa storia molto complicata di relazioni tra gli europei e gli africani. Cosa prendono i profeti neri, come pure vengono chiamati dal libro degli occidentali? Innanzitutto il nome, si dichiarano profeti e prendendo questo nome in un certo senso assumono anche tutte le complicazioni che la definizione di questo termine ha assunto già nella cultura ebraica, che è la fonte primaria non solo dei profeti cosiddetti scrittori, ma anche quelli anteriori e come nella cultura ebraica, come nella cultura occidentale, in tutta la sua lunga e complicata storia della diffusione del cristianesimo, un solo nome ha coperto varie figure di poteri straordinari. Direi che quasi ogni studioso ha le sue idee intorno a questa possibilità di discernere in un solo nome, che non può essere un problema dello storico e dell'etnologo, il fatto stesso della fortuna di questo termine. In realtà già nel primo libro di Samuele si dice, sentiamo i profeti, ma quasi in un tono, oggi chiamiamo profeti quelli che nei tempi passati venivano detti veggenti. Quindi anche a voler considerare la Bibbia, la fonte di questa figura, ci accorgiamo che già all'origine copre più funzioni di poteri straordinari e tuttavia il termine persiste e rimane. ci dobbiamo chiedere perché. Io credo che i profeti africani utilizzano la possibilità di essere autorizzati a dire e a parlare dalla fonte unica del potere e della verità. Un elemento che unifica tutte queste figure apparentemente diverse l'una dall'altra è il fatto di avere avuto un incontro personale diretto o con Dio o con un suo messaggero o con un santo. Quindi non si fanno tanto interpreti dei segni della natura o di una circostanza, ma attingono la loro autorizzazione, ripeto, a dire e a fare dalla fonte unica della potenza. E credo che questa dimensione leghi in un lungo e complicato percorso i profeti africani e il profetismo africano alla tradizione e della tradizione e cristiana. Da un certo punto di vista molti studiosi possono essere toccati dal fatto che in un certo senso non tutti, la maggior parte dei molti profeti africani di cui poi farò qualche nome, in un certo senso sono meno interessati al problema della verità e più interessati al problema della potenza in un certo senso e quindi si tende in qualche modo a legarli a parentele morfologiche degli altri poteri straordinari di origine locale. In realtà queste due dimensioni, l'autorizzazione a dire e a fare, appartengono alla tradizione del profetismo ebraico e cristiano. Nella Torah molto spesso Mosè lamenta, Mosè non parla tanto bene, diciamo così, balbetta e nell'Esodo si lamenta con Yahweh dicendo cosa potrò dire al faraone se ho la lingua e la bocca pesante e Yahweh risponde dicendo ho fatto di te un dio, sarà tuo fratello Aaron e il tuo profeta, quindi sarebbe riduttivo ridurre la figura del profeta a semplice portavoce della divinità. D'altra parte tutte le figure carismatiche e profetiche della tradizione cristiana hanno l'una e l'altra componente o entrambe queste componenti. Quindi cosa prendono dalla Bibbia? Direi dovendolo dire in una sola parola questa autorizzazione. E in un certo senso da questa autorizzazione scaturiscono poi anche delle azioni sociali, che in realtà sono molteplici, costanti, va ribadito che questa figura del profeta accompagna tutta la storia fino al giorno d'oggi con una effervescenza di figure profetiche. e dobbiamo necessariamente orientarci per grandi linee. Un'immagine efficace e sintetica di questo nostro discorso potrebbe essere appunto quella in cui il profeta nero africano prende la Bibbia dalle mani del missionario europeo e bianco. E questo gesto che io ho proposto sembra implicare sempre e comunque una polemica totalizzante nei confronti e dell'espressione del cristianesimo occidentale, perché la Bibbia e il crocifisso sono portati insieme con i cannoni, gli effetti della tecnologia e uno strapotere dell'Europa cristiana. E quindi in un primo momento ci si aspetterebbe una contrapposizione frontale con i caratteri della cultura e in un certo senso della religione degli europei. In realtà non è così, il più delle volte non è così, o perlomeno questa contrapposizione balletta in controluce. In più delle volte sorprende il fatto che il profeta africano combatte le figure e gli oggetti delle religioni africane, che in sostanza impacchetta, usando termini occidentali, dentro la categoria negativa di fetiche e fetiche, per quanto riguarda ad esempio l'Africa francofona, ma qui si ripete una scena che ricorda anche i primi anni della diffusione del cristianesimo e dell'effervescenza delle figure profetiche. Cioè la demonizzazione sul lato negativo di tutti i culti e di tutte le figure, cioè diciamo di tutti i sacerdoti, diciamo molto schematicamente, sia degli stregoni sia dei maghi, benché queste parole diciamo servono per orientarci, ma spesso ci aiutano anche a confonderci. Si immagini per esempio che l'italiano conserva ancora questa differenza tra demone e demonio, demone come genio, figura non negativa, anche messaggero in un certo senso, e il demonio come figura negativa. Dobbiamo immaginare che nelle varie culture e società autoctone africane, il mondo dei poteri straordinari è estremamente complesso e ha molti nomi. Questi nomi vengono unificati sul piano negativo molto spesso, quasi da tutti i profeti e la religione di quelli che li ha conquistati, il cristianesimo, viene indicato come il punto di riferimento che bisogna seguire. Da un primo punto di vista possiamo dire che questi profeti in fondo sono insieme uomini di fede, ma anche uomini molto realisti, cioè credono che l'ordine mitologico e rituale sia quello determinante, sia quello più importante. Hanno una fede da questo punto di vista, ma hanno anche un occhio molto attento alla realtà ed è come se dicessero è evidente che il dio dei bianchi è più forte, perché di fatto i bianchi, gli europei hanno vinto. Quindi strappare la Bibbia può essere, mano dai missionari può essere anche un anelito a prendere il potere e la forza, anzi la fonte della forza che ha fatto potente l'Occidente. Ma anche questa prima sgrossatura andrebbe argomentata e raffinata, perché nelle azioni rituali dei profeti e anche nel messaggio che i profeti danno, l'Occidente non viene demonizzato. Sono famose le imprese di un profeta liberiano di nome Harris, è un profeta che ha viaggiato dalla Liberia, passando per la costa d'Avorio e fino in Ghana, che nel giro di un anno e qualche mese da stime accertabili, accertate, ha battizzato 100 mila, ha convertito e battezzato 100 mila persone tra lo stupore anche di molti missionari. E questo profeta Harris consigliava dopo ai suoi adepti, ai nuovi battezzati, di andare tanto dai cattolici o dai protestanti, purché avessero la Bibbia appunto. Dice, andavano bene tutti e due. Ora, in un primo momento viene addirittura accolto dal governatore, è nettamente moderno e filo occidentale, non si capisce perché questi personaggi vengano poi arrestati e perché in un certo senso riescano a farsi tutti nemici. Il caso ancora più clamoroso è quello di Kimbangu, in Congo, durante la colonia appunto belga, dove diciamo all'interno di un'antica tradizione profetica autoctona, un messaggio di conversione, lui faceva buttare nel fiume tutti i fetici e anche gli scapolari dei cattolici e un conoscitore straordinario della Bibbia e da quello che si riesce a capire in una linea assolutamente cristiana. Bene, la reazione belga e delle presenze europee, missionari, cattoliche e protestanti fu radicale e feroce, Kimbangu fu condannato a morte e poi fatto morire in prigione negli anni 50, credo nel 1951 se ricordo bene. Allora ci si chiede perché, perché questi profeti fanno tanta paura all'Occidente? La cosa acquista ancora più importanza per la riflessione, se si considera che molti profeti invece del Sud Africa, dove il messaggio è assolutamente anti-occidentale, dove si può arrivare anche ad affermare che Dio ha inviato vari profeti, ma Gesù è il profeta dei bianchi e non dei neri e quindi rivendicare essere altri Cristi, ma in un certo senso contro il Cristo dei bianchi. Quindi a prima vista sul piano dei contenuti, diciamo così, sembra essere fortemente antagonista in un'area che sappiamo essere predisposta al conflitto, per quanto io ne sappia un solo profeta viene arrestato, perché non stava al posto suo e vagava da un territorio all'altro. Allora ci si chiede come mai in alcuni casi la reazione sia quasi di tolleranza e in altri casi sia di assoluta fermezza e contrarietà. Molto probabilmente questi aspetti derivano dalla forma di predicazione, diciamo così. Il profeta itinerante, come Erris o anche come erano diventati i profeti ordinati da Kimbangu, agiscono sul territorio, cioè creano delle chiese, per dirle in modo più semplice possibile e quindi creano volontariamente o involontariamente delle possibili alternative di fatto alle istituzioni che su cui lo stesso territorio agiscono. Quindi diciamo che il profeta itinerante, indipendentemente dai contenuti della sua predicazione, consente o predispone una interpretazione della salvezza e della Bibbia anche in chiave anti-occidentale. Cioè si creano le premesse istituzionali, possiamo dire, perché uno stesso messaggio proveniente dalla Bibbia sia rivoltato contro coloro che la Bibbia hanno diffuso, non solo attraverso la dimensione oratoria, ma attraverso la dimensione istituzionale. E' probabile che la reazione delle istituzioni, delle chiese missionarie in Africa e dello Stato coloniale, ma i missionari itineranti danno problemi anche agli Stati indipendenti, abbiano visto in questa organizzazione un pericolo più forte dei temi della loro predicazione. Il profeta itinerante molto spesso compie dei riti agonistici, che cosa significa? Significa che i suoi adepti hanno qualche cosa da dire a quelli da cui si sentono minacciati. Molto spesso la lotta avviene dentro l'universo mitologico e pratico della cosiddetta stregoneria. Se noi, anche attraverso indagini storiche per quanto è possibile o etnologiche, cioè andando a intervistare gli adepti di un determinato profeta, noi possiamo vedere che molto spesso i profeti impegnati in questa lotta antistregonesca hanno attorno delle persone che condividono una stessa cultura, ad esempio sono filo occidentali, hanno studiato, conoscono la città, hanno un'idea anche economica completamente diversa rispetto a quella del lignaggio da cui provengono. Quindi noi vediamo che attraverso questa tipologia rituale dell'antagonismo stregonesco il profeta si fa costruttore di mondi sociali dove le credenze religiose si associano a delle appartenenze di carattere culturale, a delle pratiche di carattere sociale e a delle funzioni anche di carattere economico che in un certo senso non erano previste da una società che invece si classificava, ad esempio, rispetto alle differenze di età. Quindi sono testimoni totali e totalizzanti che dentro il lessico e i simboli della Bibbia riorganizzano modi di stare al mondo, modi di concepire il mondo e anche modi di concepire l'antagonismo, il conflitto. Questo conflitto riguarda certamente l'Occidente ma sarebbe una grave semplificazione che è avvenuta spesso negli studi se non si considerasse il fatto che riguarda anche l'antagonismo tra africani e africani.